. 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 che sono pizzi e figli. Ciao, ma... Quindi è andata a scuola. Normale. Noi adesso, senza volerlo, abbiamo fatto un favore immenso al clan dei Pantano. Ma è stato un infame. Ah, ho trovato il modo che ho fatto entrare. Stiamo a sparare? Sì, sì. Eh? No. Se faccia solo, eh. No, è morto un nambolo. A te già te conosco. Ciao, oggi. Ciao. Ma perché invece te sta sempre con Manolo? Stai un po' con tua madre. Sapemo tutto l'uno dell'altro. Mi dici che cazzo è successo? Ma che t'hanno fatto che state così sul cazzo? In giù i video non poter sognare. No! Ci pensiamo a quasi, Radio. Avorti. Strano, eh. A zero a mille, così. Grazie a tutti. Grazie a tutti.